Vieni in corsa con un appaglio di siena a Rialo che a Remesh Bar arrivano vicino alla macchina che sta per staccare. Sbaglia Rialo. Rania Power è il ring ok all'attacco di Radis di Costa, che è partita forte ma già all'inizio della prima curva da strada a Rania Power. Rimane scoperto il ring ok di fuori a Richetting, mentre Rialo segue lontanissimo perché ha fallito l'avvio. 15-6 i primi 200 metri, Rania in vantaggio, Radix in seconda posizione, in terza posizione Red River CR. Poi ring ok che ha arretrato ai fianchi di Red River CR. Rania. Rania in vantaggio, Radis Costa in seconda posizione. Poi ring ok che ritorna su Radis Costa. Richetting, mentre il ritmo blando, sta permettendo a Rialo di recuperare il gap dovuto all'errore iniziale. Comunque nulla muta. Ring stazione ai fianchi di Rania Power. Poi un'altra pariglia è composta da Radis di Costa e Revejbar, quindi Richetting. I cavalli che vengono davanti alle tribune per il passaggio dopo un chilometro di corsa. Rania apre la fila, sempre sotto la minaccia di Ringo Key, e passa il primo chilometro in 18.4. In scia alla battistrata rimane Radis di Costa, che ha all'esterno Richetting. Revejbar che ha di dentro Richetting. Poi gli altri due staccati, con Rialo, che ha raggiunto Roger Benal. All'inizio della retta di fronte all'arrivo, posizioni praticamente statiche. Rania in vantaggio, ring investe di attaccante. Poi Revejbar che ora allunga, costringe la battistrata ad allungare. E con Ringo Key, e ha una lunghezza da Rania Power, che percorre la retta di fronte all'arrivo ancora in vantaggio. Miglio in 2.3 e una virgola, con Ringo Key che sbaglia. All'inseguimento di Rania Power si porta Richetting, i due hanno preso vantaggio a Revejbar. Squalificato il 5 di Ringo Key, addirittura d'arrivo, Rania Power è richiesta, Richetting ci crede e ci prova, allarga su Rania Power, l'attacca, i due in bella lotta, ma poi nel finale Richetting e Marco Cusinati passano e vengono a vincere davanti a Rania Power, che si deve accontentare del secondo posto. Mentre nella volata per il terzo posto, Rialo contiene facilmente Radix di Costa. Gli altri tre, il 5 di Ringo Key, il 6 di Roger Benal, l'8 di Revejbar, sono finiti sul tabellone degli squalificati. 16.9 sul doppio chilometro per Richetting, per Red River CR, ho detto fosse Richetting più di una volta. 16.9 per Red River CR, il Fairbank G della Usa Maio, training che guida per Marco Cusinati. Red River CR al primo posto, al secondo posto il 4 di Rania Power e al terzo posto, senza volata, perché non c'è volata, al terzo posto lo sfortunato Rialo, dopo buon inseguimento. Quarta, Radix di Costa, 2-4-1 tra i premiati, 2-4-1 la trio, Red River CR, Marco Cusinati al training e al guidi, colore della Usa Maio e da Villanova, per il momento è tutto, 1-16-9 il Raguaglio.